L'ampliamento produttivo e occupazionale della sede di Sesto Fiorentino della multinazionale del farmaco Elililli, la realizzazione di una nuova sede per il liceo scientifico Enrique Sagnoletti, nuove aule universitarie all'interno del polo scientifico e tecnologico di Sesto. Questo l'accordo di programma da 17 milioni e 600 mila euro firmato presso la sede della Presidenza della Regione Toscana. L'accordo è stato sottoscritto dalla Regione, principale finanziatore grazie allo stanziamento di 10 milioni di euro, la città metropolitana di Firenze che contribuisce con 7 milioni, l'Università degli Studi di Firenze che corrisponderà a 600 mila euro. Insieme a loro hanno firmato anche i comuni di Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio, oltre a Elililli che con questo accordo accrescerà la produzione con nuove assunzioni. Con questo noi consentiamo lo sviluppo della Lilli che farà altri investimenti e confermerà questa presenza di un centro importante a livello mondiale sulle biotecnologie. Sono 100 milioni e circa 100 unità di posti di lavoro di alto livello e noi diamo un contributo perché la scuola media e il liceo scientifico si sposti. Quando si fa un'operazione che mette insieme istituzioni pubbliche e privato e le parole d'ordine e le parole chiave di questo accordo sono lavoro, alta formazione, ricerca e trasferimento tecnologico, direi che questo potrebbe essere un esempio da esportare su tutto il territorio nazionale. È un momento molto interessante per Elililli e per Sesto Fiorentino, in modo particolare perché Sesto Fiorentino è uno dei pochi centri produttivi per Lilli che si occupa di biotecnologia. Siccome grazie alla ricerca stanno venendo fuori farmaci molto interessanti nell'area delle biotecnologie, il sito di Sesto Fiorentino diventa automaticamente importante. L'azienda americana ha bisogno di più spazio per fare della sua sede toscana il sito principale di produzione nell'area delle biotecnologie. L'accordo di programma prevede infatti che la città metropolitana ceda per 7 milioni di euro alla Elililli l'area attigua in cui sorge il liceo scientifico. Questo rimarrà funzionante fino a che non sarà terminata la costruzione di un nuovo plesso nell'area di proprietà dell'Università degli Studi di Firenze, che ospita il polo scientifico e tecnologico. Il nuovo liceo sarà pronto nel 2021. Non lontano, grazie all'accordo, sorgerà anche un edificio destinato ad ospitare quattro aule universitari da 250 posti ciascuna. Grazie. 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 Grazie.